Eeeh, raccontami me! Son partito il 13 luglio, primo giorno di camminata dei tre, destinazione, la spezia. Abbiate grasso la spezia? E no, il primo giorno è stato quello dove ho camminato di più, per più chilometri, anzi, ma non per più ore. Perché ho camminato in tutto 52 chilometri e praticamente dovevo arrivare all'inizio a Pavia, ma durante il tragitto ho cambiato destinazione, sono arrivato a Pavia, cioè a Belgiolioso, semplicemente per prendere le credenziali della Francigena. Sono andato oltre per il fatto che ho visto che martedì sarebbe stato chiuso dove danno le credenziali, e visto che era lunedì e giorno dopo sarebbe stato chiuso, ho detto, mi faccio un pezzo in più, le prendo oggi, le mi serve. È stato un inizio neanche troppo faticoso, pensavo molto peggio. Diciamo che la fatica l'ha iniziata a sentire dal secondo giorno, ma non più, secondo me non tanto per la fatica fisica, ma più per la fatica mentale che avevo. Per il semplice fatto che io dal secondo giorno ho iniziato ad avere problemi. Dovevo alzarmi a trovarmi con il tizio dello Stella alle 5 del mattino, lui si è presentato alle 8 e mezza, quindi sono partito due ore e mezza di ritardo sul mio itinerario, eccetera. Mi sono perso perché non riuscivo a trovare dove inizia la Selta Francigena per poi scoprire che la via nei campi non c'era più, che io sto cercando quella, invece no, si dovrà fare per forza sullo stradone perché quella dei campi ha crollato un ponte, qualcosa del genere, quindi anche lì ho perso altre due ore. E quindi praticamente io ho camminato per 8 ore al secondo giorno, ma facendo i chilometri di 4 ore. E quindi diciamo che qua lì anche la situazione mentale mi ha stancato molto, però da che ho iniziato male il secondo giorno è finito benissimo perché mi sono accampato con la tenda sui arrivi del Po e ho visto un tramonto della Madonna. Veramente, veramente figo. Terzo giorno, iniziato benissimo, è andato maluccio durante la vita, però secondo me il terzo giorno è il più bello che ho passato della camminata perché il terzo giorno è stato veramente pieno di incontro di gente che mi ha aiutato o che si è fermata a parlare e ho fatto amicizia con persone, semplicemente pensare che durante il terzo giorno mi sono perso la mattina. Quindi praticamente io ho fatto... Allora, avevo pensato di arrivare a Piacenza, mi mancano 4 ore e mezzo da quando mi ha puntato la tenda, io cammino per 4 ore, controllo il navigatore e mi mancavano 5 ore e mezzo da quando mi ha detto... E quindi praticamente tutta la mattinata è sputtata così e quindi anche lì secondo me la situazione mentale che ti dice io ho camminato tutto il tempo per nulla, cioè ti distrugge, poi avevo continuamente l'irritazione allinguine che mi bruciava un botte che veramente mi faceva andare a rilento quindi non era un problema. Però, come dicevo, ho trovato un botte di persone che mi hanno aiutato in un paesino prima di Piacenza ho trovato una ragazza che mi ha dato una bottiglia d'acqua che me l'ha regalata, una signora che mi ha offerto il pranzo, mi ha preparato lei un panino, un'acqua e una banana, quindi proprio gentilissima, poi senza che io mi chiedessi nulla, anzi hanno loro iniziato a chiedermi, a offrirmi le cose, addirittura la ragazza che mi ha dato la bottiglia d'acqua mi ha proprio rincorso perché io non me l'ho accorto ogni momento direi e poi sono arrivato a Piacenza dove il mio amico Sergio mi ha raggiunto e siamo stati lì un po' a Piacenza insieme la sera, abbiamo girato un po' e lì abbiamo anche incontrato due ragazze con cui poi abbiamo fatto amicizia sono stati a parlare un pochettino da cui poi abbiamo, lì adesso mi sto continuando a sentire con una e sto continuando a stringere un'amicizia abbastanza forte. Comunque è stato giorno molto interessante e poi è iniziato veramente l'apoteosi del viaggio dove finalmente io mi sono sentito libero al 100% proprio di dire vado dove voglio, quando voglio, perché voglio senza nessuna restrizione con Sergio abbiamo deciso proprio all'ultimo momento di prendere il treno e andare a trovare un altro nostro amico Jack a Bologna proprio questione di 10 minuti abbiamo fatto tutto siamo in corsi per prendere il primo treno eccetera siamo andati a Bologna abbiamo giocato un po' a Bologna con Jack ci ha ospitato lui la notte e il giorno dopo ho deciso di prendere il treno e andare a Pisa da un'altra ad andare a trovare un altro mio amico quindi poi anche lì sono andato a Pisa anche di deciso all'ultimo momento forse la sera prima o comunque qualcosa di breve e qua ci siamo separati io e Sergio e lui ha continuato per la Francigena in bici e io ho continuato lì col treno a Pisa a trovare il mio amico ho ritrovato il mio bellissimo amore l'apo e lì vabbè a Pisa ho trovato un ostello molto interessante molto disponibile comunque all'estello e da qua poi parto e faccio una camminata sulle colline pisane dove praticamente Simone il mio amico mi parla di questo prato dove ci si può accampare con la tenda e c'è anche un ristorante vicino molto interessante dato che il paesaggio è bellissimo e dico vabbè tanto c'è un giorno vado, parto, prendo, vado e effettivamente anche qua un posto stupendo e qua conosco altre tre persone in una famiglia con un bambino che erano in camper praticamente approcciandomi con la mamma grazie ai dread parlando di dread eccetera mi offrono la cena iniziamo a parlare io gli parlo un po' erano anche interessati alla GoPro quindi gli spiego un po' di cose della GoPro gli spiego un po' del loro viaggio quello che fanno quello che non fanno come mai sono lì in camper gioco un po' col bambino col cane mi hanno anche detto nel caso di essi passare dalle loro parti di passare a trovarli che non spiegano tranquillamente quando fanno il viaggio del mondo e niente poi anche lì dormo in tenda giorno dopo mi alzo scendo giù da questa pallina tornando a Pisa per teoricamente avevo intenzione di dormire ancora a Pisa giorno dopo partire per la Spezia e raggiungere Silver e la destinazione di questo viaggio ma mi arriva una chiamata da Silver e mi dice ma puoi venire qua stasera che facciamo una cena con i parenti di Margherita sua cugina e tutto il resto va bene e quindi dico l'ostello e parto per la Spezia alla sera stessa arriva il tempo e niente quindi questo viaggio si conclude di 7 giorni quindi da quello che doveva essere un viaggio una camminata di 9 giorni da Biategrasso alla Spezia si è trasformato in una camminata di 3 giorni e poi un viaggio complessivo di 7 vedendo un po' persone eccetera e questa cosa ragazzi mi piace un botto perché io voglio basare su questo il mio viaggio del mondo non prendendo i mezzi ma andare dove voglio quando voglio perché voglio senza restrizioni di tempo perché adesso probabilmente se non avessi avuto la restrizione di arrivare lì determinato giorno alla Spezia non si è presa molto più con calma camminando meno affaticandomi meno però sono estremamente soddisfatto e spero di farne al più presto altri altri viaggi del genere tanto vi ricordo di seguirmi su Instagram dove metto giorno per giorno ogni mia camminata le storie metto veramente un botto di cose sulle camminate che qua su YouTube magari non vedete e qua in descrizione avete i video di giorno per giorno del viaggio fino alla Spezia